A tutti voi, buonasera, 91esimo minuto qui allo Stadio Curi e Elio Sergio Angelo Fortunato ai nostri microfoni. Una partita tiratissima, un Eperugia che ha inseguito il risultato per 85 minuti e alla fine è arrivato il tanto sospirato gol. Ecco, che cosa hai provato in quell'attimo che per voi calciatori è magico? Bueno, è indudabile che è stato un momento di allegria perché veramente avevamo, penso avevamo rischiato troppo le ultime minute per arrivare a questo gol. Ci ha aiutato la fortuna di arrivare al pareso anche avendo rischiato un po' troppo dietro. Ecco, senti, questa Roma è realmente tanto forte? A me mi è piaciuto molto perché ha un sistema tattico molto buono e in tutti i settori del campo c'è un uomo della Roma. Dove il pallone va sempre c'è uno di loro, per quello dopo giocano bene tutti il pallone, si fanno gli scambi belli. A me mi è piaciuto, veramente penso che le squadre che ho visto è la che più mi è piaciuta. Ecco, tu sei entrato in campo sullo 0-1, Eperugia stava perdendo. Ineprovvisamente al novantesimo venne il gol. È anche una tua vittoria personale? Sì, più che personale è una vittoria di tutta la gente, di tutti noi, perché veramente perdere oggi poteva significare un avanzamento di morale troppo grosso. Allora arrivare a questo pareso, anche per me, perché è un tratto secondo tempo con la squadra perdendo, allora sono andato fuori con la squadra in pareso, allora per me è stato un po' di allegria anche. Ecco, senti, hai visto il primo tempo dalla panchina e il secondo l'hai giocato la protagonista. Un tuo giudizio sull'altro straniero, quindi Falcone, che cosa ne pensi del brasiliano? Mi è piaciuto molto, non si vede molto nel campo, ma c'è il pallone sempre entre i piedi, lo dà sempre bene, non sbaglia mai un passaggio, quello è molto importante per una squadra, più per un resista come Falcao, che deve dare sempre tutti i palloni bene, non sbagliare mai, penso che quel lavoro lo fa molto bene, anche quando viene noi crossa, arriva sempre dentro l'area rigore, penso che fa un doppio lavoro, a me veramente non solo Falcao, dico che la Roma tutti mi hanno piaciuto, i Bartolomea, i Conti, veramente una squadra che ha trovato di uomini eccellenti per tutti i posti del campo. Ecco Elio, come giudichi la tua prova? Bueno, è indudabile che una partita un po', entrare con uno a zero con la Roma è veramente difficile, comunque sono contento come ti dico perché ho entrato, ho trattato di fare tutto quello che veramente mi ha permitito, quelli 45 minuti che sempre mentre uno comincia a riscaldare tutto si accortano di più ancora, ma penso che ho dato due o tre belli palloni, ho sbagliato uno sull'area del rigore tirando fuori, non so, ho trattato di fare tutto quello meglio che poteva fare in quelli minuti che ho entrato, penso di avere, non so, di avere andato, non dico molto bene, ma di avere fatto un compito. D'accordo, siamo d'accordo con te, ma siccome noi parte di questa trasmissione la manteremo la notte di Capodanno per il nuovo anno, vorremmo che proprio Sergio Fortunato, questo argentino che si è così convertito al peruginesimo, chiamiamolo così, ecco dia ai nostri amici sportivi i suoi auguri e che cosa consiglieresti alla tifoseria bianco-rossa? Prima che tutto ringraziare tutta la gente perché veramente oggi è venuto molta gente di Perugia a vedere questa partita che veramente ci ha aiutato molto, allora per tutta quella gente molti auguri per questa fine d'anno e speriamo che l'anno prossimo sia migliore questo che finisce. D'accordo Elio, anche a te tantissimi auguri da tutti i perugini, ciao! E' la volta di Tacconi, l'Under 21 del Perugia, una vera battaglia sugli spalti e in campo, come hai vissuto questo incontro? Sì, è stata una bella partita, stava più che altro una battaglia in campo, mi sembra che alla fine Perugia abbiamo meritato ampiamente il pareggio. Grinta, determinazione, volontà, carattere, sono queste le principali dote del Perugia in questi 90 minuti con la Roma? Sì, sono queste le maggiori dote che ha espresso il Perugia nella partita con la Roma, anche se ha espresso a sprazi anche dote tecniche. Infatti in più di un'occasione siamo arrivati vicino al gol e alla fine giustamente siamo riusciti a raggiungere il pareggio. Ecco, il gol in apertura fatto dai giallorossi vi ha sconvolto i piani tattici dell'intera partita? Certamente, un gol preso a freddo in quel modo ci ha un po' segato le gambe, anche se con la volontà e la forza di voler fare risultato siamo riusciti a rimontare e proseguire verso il cammino. Ancora è lungo, speriamo di riuscirci ad arrivare alla salvezza. Ecco, ti ha impressionato Falcone? No, personalmente non è che mi ha impressionato Falcone, ho fatto una buona partita ma a livello degli altri niente di più. Ecco, senti, invece dato che noi manderemo questi brani finali la notte di Capodanno, ecco un augurio e un consiglio alla tifoseria locale ai biancorossi? Spero che i tifosi biancorossi si comportino correttamente come si sono comportati oggi perché abbiamo bisogno anche del loro calore, del loro tipo e bene stiano vicino alla squadra in questi momenti. Un augurio a loro e passino anche loro un buon fine anno e speriamo che l'81 ci riservi qualcosa di meglio. D'accordo, grazie Taccone, anche a te auguri naturalmente sia da Radio Out che da Tele Aia e io ridò la linea a Out e naturalmente amici di Tele Aia. Ancora un personaggio, la volta del dirigente delle Perugia, l'avvocato Gabriele Brustenghi. Ecco, una partita sofferta, sofferta fino all'ultimo ma è arrivato il premio, un premio che stava per sfuggire e che io seguitavo a dire a livello di radio cronaca immeritata, sconfitta delle Perugia. Ecco, possiamo considerarci felici di questo conseguimento, di aver conseguito con questo punto in Estremis? Sì, ma direi che per l'esperienza che ho io è forse stata la partita più sofferta da quando il Perugia è in Serie A. Sia per il clima che c'erano sullo stadio, sia per la presenza di tutti questi tifisi romani che si stavano divertendo e noi ci divertivamo di meno. Tu hai parlato di premio, io direi che è un premio comunque quasi dovuto, quindi perché a mio avviso la squadra sul piano dell'impegno è stata terrificante. Abbiamo visto gente correre disperatamente, fare brutte figure, inseguire tre o quattro giocatori con una determinazione incredibile. Non so se ti ricordi, ma verso la fine della partita ho visto un incredibile intervento di Bernardini che è caduto addirittura nel cercato di rincorrere la palla. Testimonia non certamente del livello tecnico, non sto facendo una valutazione tecnica, ma una valutazione di impegno che è sintomatica. Evidentemente, quindi direi che, servendomi la tua espressione, è un premio assolutamente doveroso da parte della fortuna. E fortissimamente aggiungerei voluto dalla squadra dell'Eperugia. Ecco, considerazioni invece siamo a fine anno di questo Perugia che è tartassato dalla sfortuna. Non torniamo naturalmente su episodi da calci di rigore o episodi sfortunati come alcune ammunizioni che erano più da espulsione che da ammunizione. Comunque diciamo è una specie di consultivo, come lo metteresti così? Siamo a livello televisivo e radiofonico in onda. Ma direi che è chiaro che il giudizio subisce l'influsso ovvio di questo pareggio raggiunto all'ultimo minuto. Quindi è un giudizio positivo, è un giudizio ottimistico. Perché ottimistico? Perché fino adesso, secondo me, abbiamo perso per strada tanti punti per sfortuna. E per sfortuna, le componenti della sfortuna sono molteplici, ci mettono anche gli arbitri. Senza far del vittimismo, ma proprio con una valutazione oggettiva. Ecco, secondo me la valutazione ottimistica viene dal fatto che oggi questo pareggio raggiunto all'ultimo minuto, con la prima in classifica, è sintomo non tanto che il Perugia da questo momento in avanti avrà stata facile, ma quanto che la Fortuna sta forse guardando anche noi. Mi sembra l'elemento più importante in un campionato che sarà durissimo fino all'ultima giornata e che dove l'elemento fortuna, a mio avviso, sarà determinante. Ecco, la squadra riprenderà i contatti con l'agonismo vero del campionato il 18 gennaio. Secondo te questa pausa sarà utile ai grifoni? Ma visto quanto hanno corso oggi direi proprio di sì, perché poi ti posso anche confermare, poi li avrei intervistati prima di me, ho visto negli spogliatoi gente veramente distrutte, non distrutta moralmente perché erano contenti, ma gente fisicamente distrutta. Quindi forse questa pausa potrà essere opportuna, una valutazione tecnica, quindi non può essere mia, però mi sembra che sul piano... Per riproporre un Perugia più fortunato. Speriamo. Sì, direi di sì, insomma, perlomeno un Perugia che si esprima agli stessi livelli sul piano agonistico in cui si è espresso oggi e aggiungendo quel pizzico di fortuna che ci dovrebbe portare quei 30 punti che dovrebbero consentire la salvezza. D'accordo, noi ti ringraziamo, Gabriele, naturalmente auguri a te la dirigenza perugina. Scusa Salvatore, Salvatore, abbiamo un piccolo saluto, ecco, catturato Salvatore Bagni prima che se ne parte per l'Uraguai. Oggi abbiamo visto grandi tecnici in tribuna da Fulvio Bernardini ad Enzo Berzotte. Una tua considerazione su questa ultima contesa prima di partire per il Sud America? Io penso di aver disputato una grossa partita, veramente, soprattutto il primo tempo. Ho messo in difficoltà spesso sia Romano che Turone. Nel secondo tempo sono tornato al mio ruolo di tornante, come dicevo prima, e nel complesso ho giocato una grossa partita. Se c'erano tecnici a vedere, penso che vi ha dimostrato quello che ho sempre detto e quello che ho sempre fatto. Ecco, senti, a un certo punto vi siete incontrati in più occasioni, tu e Conti. Ecco, c'era qualche piccolo rancore per quella maglia numero 7? Oh, assolutamente. Io dico che adesso se lo merita che sta giocando veramente a livelli eccezionali. Anche oggi ha dimostrato che il numero 7 è suo e nessuno se lo prende. Se c'è qualche altro posto libero non si sa mai. Ecco, senti, Salvatore, te ne stai, lo ripeto, partendo per la tua prima vera avventura azzurra, anche se ne hai vissute altre con la Under 21. Ecco, questo stimolo, questo pareggio che è arrivato al novantesimo, ti carica ancora di più? Sì, penso di sì, perché andare via e passare l'ultimo dell'anno, anche se con tutta il Club Italia, diciamo con la Nazionale, dopo aver perso, certo non era di buon aspicio per poter giocare delle buone gare, se ci sarà la possibilità di giocare. Aver pareggiato al novantesimo, anche con un po' di fortuna, diciamo, però la partita è stata, cioè il risultato è giusto perché noi meritavamo di pareggiare. Loro sono stati avvantaggiati da quel gol che hanno segnato all'inizio e hanno giocato bene perché la Roma è una grossa squadra. E aver pareggiato con una grossa squadra è merito anche noi. Ecco, io vorrei approfittare ai bagni di avere qui accanto a me Pruzzo, ecco, un'accoppiata, un'accoppiata insieme. Pruzzo e Bagni, chissà che non li vediamo amici telespettatori e amici radioascoltatori in azzurro insieme. Pruzzo che ne pensa? Sarebbe un'idea ottima, insomma, direi. Ecco, Bagni a destra e Pruzzo al centro potrebbe essere un tandem del domani? Va bene tutto, insomma, destra, sinistra, al centro, basta giocare, insomma. Ecco, un parere di Pruzzo personalissimo con Bagni davanti, siamo alla vigilia dell'anno, non fatevi troppe sviolinate, eh? Ma direi che Bagni mi sembra quest'anno l'unico in questo Perugia che possa cambiare un po' la situazione di questa squadra che mi sembra un po' in difficoltà. Ecco, un grande stimolo per Salvatore e soprattutto, ecco, noi ci congeniamo che Bagni deve andare via. Gli auguri ai nostri amici telespettatori, senza altro da Salvatore Bagni. Ecco, Pruzzo, un parere invece di questo Perugia, onestamente, si può salvare? Ma direi che oggi ha incontrato una squadra abbastanza, direi, forte. Ha giocato come ha potuto, ha trovato questo pareggio, però direi che ci sono squadre più deboli del Perugia. Più deboli del Perugia, quindi un augurio, diciamo, di salvezza lo diamo a questi Grifoni. Io li auguro con il tuo cuore di salvarsi, anche col punto che li abbiamo regalato a noi oggi, insomma. E come credo auguri alla tua squadra allo Scudetto? Loro raggiungere la Roma? Ma direi che siamo sulla strada buona. Sulla strada buona. Auguri anche, naturalmente, a Pruzzo. E a questo punto io vorrei, amici radioascoltatori di Radio Auti, amici di Teleaia, anche invitare qui al microfono Leli. Leli che non l'abbiamo mai avuto in questo. Ed è il caso di invitarli in una partita stoica, disputata dal terzino del Perugia. Ecco, tue impressioni prima, durante e dopo. Cioè, in poche parole, quando stavate perdendo e al momento del pareggio. Indubbiamente penso che sia uno stato di un animo totalmente di differenza. Prima eravamo già un po' in crisi, cioè non speravamo più in questo pareggio. Dopo quando ha segnato Di Gennaro, penso che siamo esplosi di gioia. E effettivamente anche quello che abbiamo fatto è ancora tutto dietro. Ecco, ma Leli ci credeva a questo pareggio con il passare dei minuti? Cioè, forse abbiamo raggiunto il pareggio nel momento in cui ci si credeva meno di tutti. La Roma stava controllando discretamente bene la partita. Noi cominciavamo a perdere in lucidità, anche in forza. Avevamo spinto, avevamo cercato di tutto per poter passare. Cioè, ci è andata male. Poi hanno fatto una mezza ingenuità in difesa. E' buon per noi che siamo riusciti a partire. Ecco, è difficile per una squadra, per un calciatore, cioè vedere un incontro che parte all'85esimo, cioè con 85 minuti da giocare, a rincorrere un pareggio? È difficile, specialmente contro la Roma, sicuramente. Contro le capoliste. Forse con altre squadre può essere meno difficile. Ma dipende tutto da come si mette la partita. Noi eravamo partiti concentratissimi e poi alla prima azione abbiamo preso gol. Diciamo, bello per loro, un po' sfortunoso per noi. Poi si è messo a inseguire tutta la partita e al 43esimo abbiamo raggiunto noi. Pruzzo ha detto che ci sono squadre molto più deboli del Perugia, quindi si salverà. E a lei invece chiediamo, la Roma vincerà lo Scudetto? Ma, a vista sul campo oggi, tiene il campo benissimo, fa gol, tiene la palla. Diciamo che può fare di tutto, può attaccare, può difendersi allo stesso momento, non si sbilancia mai. Ovviamente è una delle candidate. Adesso si sono rimessi in corso anche Stai Uwe e Stinter, per me che sono le tre candidate a vincere. La Roma comunque ha buonissima probabilità. E il Perugia? Speriamo che si salvi. Grazie Lely, con questo augurio di Lely sentito perché da protagonista, per il momento vi ridarei la linea, a modo che possa intervistare un personaggio che chi meglio di lui può augurare per la nostra trasmissione di Capodanno. Gli auguri a tutti voi amici sportivi. E il capitano De Grifoni, a cui rubo ai colleghi Volpini e Occhioni. Ecco, comunque, se non si fa così in diretta non si riesce a raggiungere niente. Comunque, ecco, Froscio, dicevo, da sette anni capitano delle Perugia. Forse ha detto, come l'ha detto appunto l'avvocato Brustenghi, il pareggio più sofferto in questi sette anni. Ma è più sofferto vista la situazione. Sicuramente è stato soffertissimo perché giocare contro la Roma prima in classifica, che sa amministrare il gioco come lo sa amministrare lei, e per di più andare in svantaggio subito all'inizio della partita, direi che è stata una fatica incredibile. Siamo riusciti a raggiungere il pareggio allo scadere del secondo tempo, e quindi dobbiamo, secondo me, ritenerci soddisfatti perché era una partita che si era messa malissimo. Ecco, e Froscio, diciamo un quarto d'ora dalla fine, credevi ancora nel pareggio? Ma se siamo riusciti a fare gol, probabilmente ci abbiamo sempre creduto. L'abbiamo cercato con tutte le nostre forze, con tutte le nostre possibilità, e direi che alla fine siamo stati premiati. Ecco, noi questa trasmissione, l'ultima domanda, la manderemo la notte di Capodanno. Ecco, vorremmo che fosse proprio il capitano del Perugia, Pierluigi Froscio, ripeto, da sette anni alla guida di questo Perugia, ecco, ad augurare, a consigliare, a dire qualcosa agli amici sportivi che da sette anni appunto lo seguono. Beh, consigliare, c'è poco da consigliare. L'unica cosa che posso dire è che tutti quanti dobbiamo cercare di risollevare questo Perugia. Noi come squadra, i dirigenti e la società, e soprattutto il pubblico, perché con il loro aiuto potremmo probabilmente riuscire a tirarci fuori. Io mi auguro che l'81 porti più soddisfazioni che l'80. Che l'80, grazie Pierluigi, e mi scusa ancora una volta con Volpini e Occhioni, che lo stavano appunto intervistando. A questo punto, ecco, ancora qui, ci sono delle difficoltà con Radio Out, ma noi possiamo partire tranquillamente. Ecco, amici di Radio Out e amici di Teleaglia, siamo con Nello e Malizia. Questa volta, dopo appena sei minuti, è nato un piccolo dramma o no? Direi sì, giocare una squadra come la Roma, una carattura, un telaio, direi buonissimo. Partire con un gol di scarto è traumatizzante per tutti. Poi la situazione in cui ci troviamo noi è ancora peggio. Comunque abbiamo reagito, abbiamo cercato di farlo. Fino a quel momento, grossi occasioni, non abbiamo avuto. Però come volume di gioco mi sembra abbastanza buono. È arrivato agli ultimi minuti, è di buono auspicio, anche per Morale, per la tifoseria, poi per tutto l'ambiente. Ecco, oggi ti abbiamo visto fare due bellissime parate, addirittura non vorrei quantificare il metraggio, ma penso sui 14 metri fuori dalla porta. Due parate difficoltose e belle, dal punto di vista spettacolare. Era il tipo di gioco della Roma che ti faceva proiettare in avanti in quella maniera, che tu anticipavi quel tiro da lontano oppure era la tua scelta, una tua prerogativa? Conoscendo i tiratori che ha la Roma, mi costringeva un po' a anticipare, a chiudere un po' al specchio della porta perché con Di Bartomeu e Ivaripruzzo se rimani sotto la porta difficilmente riesci a prenderli. Effettivamente mi è andata bene perché ho chiuso molto bene. Un'apparata più difficile è stata quella da sotterra, non quella bloccata sul secondo tiro. direi che è anche risolutrice perché magari andavano su 2-0, la partita era un po' chiusa. Ecco, a livello intimo invece, questa è una domanda che ci interessa sempre, come hai vissuto questo incontro? In poche parole, lì tra i pali della tua porta, pensavi al raggiungimento di questo pareggio? Io ci ho sempre creduto, tanto è vero i compagni che me ne possono dato che fino all'ultimo minuto dicevo che la partita durava 90 minuti, prima o poi qualche svarione difesa loro doveva venire fuori. Infatti tanto è vero che ci abbiamo fatto il gol agli ultimi minuti. A un certo punto non ci credevo più perché verso il 35esimo, 30esimo secondo tempo c'è stato un certo rilassamento da parte nostra, un certo rassegnazione direi. Poi gli ultimi minuti forse un po' lo spirito di questa benedetta partita che ci ha costretti un po' a cercare questo pareggio e siamo riusciti a trovare lo stimolo giusto per poter pareggiarla. Ecco, i microfoni di Radio Auto e quelli che te le hai sono a tua disposizione per gli auguri ai tifosi che ti hanno seguito da sette anni con questa cassacca bianco-rossa. Io li ringrazio perché a parte qualche piccola polemica direi che mi sono stati sempre vicini e posso fare gli auguri di fine d'anno e un buon principio sia per loro che per noi. Grazie Nello, anche a te tantissimi auguri. Con questa intervista si conclude il nostro appuntamento al 91esimo qui allo Stadio Curi a risentirci e naturalmente, ripeto, le parti conclusive delle stesse interviste poco fa fatte saranno riproposte la notte di Capodanno.